Ti presentiamo il nuovo negozio di applicazioni Vodafone. L'accesso è rapido e immediato. Troverai tante app e giochi di qualità, subito disponibili con un semplice clic. Scaricarle è facile, grazie a raccolte accuratamente selezionate e aggiornate, che rendono facile e immediato scoprire app sempre nuove e diverse. C'è sempre qualcosa di utile. Per ogni necessità c'è l'app giusta nell'opportuna categoria. Ed è conveniente. Le app gratuite possono essere scaricate con un singolo clic, mentre quelle a pagamento vengono scalate dal tuo credito telefonico. Gli acquisti, poi, sono chiaramente visibili sul conto telefonico, senza nessun bisogno di inserire carte di credito o password. Ed è sicuro. Perché tutte le app e i giochi sono certificati per qualità e sicurezza. È qui. È arrivato. Ed è disponibile ora sui nuovi smartphone Android. Ti basta toccare l'icona per cominciare. In esclusiva su Android per i clienti Vodafone. In esclusiva su Android per i clienti Vodafone. In esclusiva su Android per i clienti Vodafone.